Quale sarà il vostro rapporto con l'Europa qualora vincesse le elezioni? Primis quello sull'immigrazione e anche, lo abbiamo già detto, la possibilità di sforare il 3% e quindi il nostro deficit perché il pareggio di bilancio imposto in Costituzione non è stata una decisione che è passata dai cittadini italiani e quindi noi vogliamo che l'Italia riporti credibilità in Europa. Saranno possibili alleanze tra il Movimento 5 Stelle e altri partiti? Faremo un appello, lo abbiamo già detto, a tutte le forze politiche il giorno dopo il voto in base al risultato che ci sarà dopo il 4 marzo e quindi la nostra proposta sarà rivolta a tutti. Stiamo chiedendo a tutti le altre forze politiche, noi abbiamo i nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani. Ci state oppure no?